Un nucleo di aria fredda che tende ad isolarsi tra Mar Ligure e Golfo del Leone continuerà a determinare fino alla giornata di domani, martedì, condizioni di tempo a tratti perturbato. In Toscana, martedì 15 maggio, nuvolosità variabile con possibili rovesce e brevi temporali sparsi, in particolare nelle zone interne, venti deboli di direzione variabile nelle zone interne, a rotazione ciclonica deboli e moderati su coste e arcipelago, mari trammossi e montomossi, temperature minime in diminuzione, massimi in ulteriore lieve calo nelle zone interne centro-meridionali, stazionarie, un lieve aumento sulle province settentrionali, cielo nuvoloso su tutto il territorio provinciale, con possibili piogge sui rilievi e sul litorale. A Lucca e nella Piana, temperatura minima 9, massima 18 gradi, a Castelnove e zone montane minima 5, massima 18, a Viareggio e sul litorale minima 11, massima 16 gradi.